ciao allora oggi volevo mostrarvi un po di cosine a tema make up che ho preso su wish allora il primo che vi mostro è questo rossetto miss rose colore 38 e già da prima ho fatto a fare uno swatch prima ma adesso ve lo mostro bene e non viene via neanche con il burro di olio di cocco quindi non so come toglielo comunque il rossetto è questo a due parti una a matita così pensate che ve lo mostro bene quindi alla matita e poi dopo alla parte a rossetto di quelli liquidi che diventano pacchi eccolo qua che diventa opaco e completamente no transfer allora vi ricordo come sempre che è in promozione a questi invece di 1 euro 95 centesimi più un euro di spedizione quindi 1,95 la quantità è un 7 ml quindi il prezzo ci può stare aspettiamo un paio di minuti che asciuga e ve lo mostro comunque già da subito ma dopo noterete ancora di più sono di due toni diversi la matita e il gloss comunque aspettiamo che si asciuga un attimo allora aria eccoci dunque è passato un minuto vedete che è completamente asciutto non è non macchia per niente e vedete anche voi che si i matita la matita un po più morbida matita e rossetto sono di due colori diversi non sta non sono malvagie però o uno l'altro una più nude e uno un pochino più sul marrone a comunque sia carini adesso il più sarà provare a struccarli perché prima ho provato con l'olio di cocco ma assolutamente vedete anche voi che non è venuto va bene eccoci qui allora vi voglio mostrare le cosine di oggi e prima di tutto questa federa per il cuscino che sapete che ho una certa passione per le federe per i cuscini questa è doppia è pasquale ovviamente perché mi sono mossa un po tardi con le cose pasquali ma per la prossima stagione con le ovette la scritta è bello anche il tessuto con la sua cerniarina è molto carina poi altra cosa una tartarughina dopo la volpe anche la tartarughina stessa cosa alla luce quindi cambia colore per me è carissima carissima la codina lasciamo qua che cambia colore e vi mostro questi washi tape si ultimamente ne sto prendendo tantissimi sono questi tiriamo fuori eccoli qua sono così questa la grandezza e abbiamo questo dove mai ok per farvi vedere meglio l'immagine sono questi qui potevo secondo voi non mostrarvi queste cose ecco esatto allora sposto un attimo queste perché la prima è una federa per i cuscini strano sempre quadrata come ho fatto vedere le altre questa è doppia ma è carissima perché guardate con il coniglietto la primavera aspettate ed era davvero carina aspettate che lo sposto perché non vorrei sporcarla perché ha prima di vostro questa questa è una collana io di queste ne ho tante ma mi piacciono tantissimo si con l'unicorno è bella mi piacciono sono la lunghezza giusta sono belle resistenti sono fatte bene e inutili mi piacciono poi veniamo a due cose di make up allora il primo è questo primer opacizzante che lo prendo da un po ve l'ho fatto anche vedere e mi piace funziona mi piace niente sulla mia pelle mista questo funziona bene e poi ho voluto provare questa baby cream magic skin beautiful baby beauty booster l'ho presa nel colore 02 proviamo assieme è un po rosa è un po molto rosa diciamo che c'è un altro colore in un chiaro questo è il meglio poi c'è allo scuro vediamo no ma una volta applicata invece devo vedere come si comporta ma una volta applicata ecco devo dire che è molto profumata aspettate si profumo si sente però ho trovato un altro prodotto ed è lasciata aperta un po si e il profumo svaniva quindi è da provare ma per adesso e niente vedremo come si comporta vi voglio mostrare questi due che erano in un pacchetto assieme quindi è un euro più un euro di spedizione e sono dei washi tape sì ok in carta sembrano piccolini ma sono intanto stupendi belli alti questo è più semplice con tutti quale ma la cosa particolare adesso aspettate se riesco a trovare il capo ecco è ondulato non è quindi pari è ondulato infatti sembrava ecco visto da così sembra dire ma poverino cosa gli è successo no è che è ondulato mentre l'altro è semplice con i koala però il pacchettino da due questo è un pelo che il pacchettino da due mi sembrava proprio carino carinissimo sicuramente e niente per le agende per le decorazioni per il calendario questi ci divento davvero ma io volevo assolutamente provare anche i correttori da wish e quindi ho preso questo della poera fuera che è un marchio che solitamente mi piace il full coverage concealer è un 7 ml colore non c'è non c'è il colore va bene apriamolo stavo leggendo eccolo qua si di scritto biscuit allora è fatto così bello il pecca abbastanza la prima volta la prima volta anch'io con voi quindi non lo so mi sembra bellino è un po scuro vediamo molto coprente molto molto coprente ci può piacere e una volta oddio allora luce naturale eccoci direi che una volta applicato non è neanche scurissimo niente lo testerò e vi farò per il fatto che le cose ci mettono un pochetto da arrivare ma comunque arrivano oggi vi voglio mostrare intanto le ricariche per le penne scusate un secondo allora sono queste qui con la punta fatta così ed è il pacco da 24 aspettate le ho tirate fuori eccole qua pastellose e quando le trovi in offerta io le prendo sempre perché mi trovo benissimo poi quello che vi voglio mostrare oggi sono due anelli perché non ho visti non potevo lasciarli lì allora il primo è questo con l'orsetto è bellissimo è troppo bellino e l'altro è questo qua con il gufetto anche lui simpaticissimo e non potevo ovviamente lasciarlo lì quindi è questo tutto sbrillantinoso ma anche molto bello sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrei ricevere un regalino da me lo sai che estrargo ogni mese ciao ciao